Non perdere questa opportunità. Entro il 30 giugno, ristrutturare casa costa la metà. Per la prima volta, tutte le associazioni del mondo dell'edilizia si sono unite per offrirti un aiuto concreto, informandoti sulle nuove misure agevolative del recente Decreto Sviluppo. Ossia, meno 50% sugli interventi di recupero, meno 55% sugli interventi di riqualificazione energetica. Per info, visita il sito, chiama il numero verde o passa allo sportello di Ancecomo. Anche gli istituti di credito sono coinvolti nell'iniziativa al fine di agevolare l'accesso al credito.